Alla indietro, dopo il lungo infortunio, ecco, non è arrivata la vittoria, però questo tuo ritorno a chi lo dedichi? Lo dedico in particolare modo alla mia compagna, la mia futura moglie, perché davvero è stata l'unica che non mi ha mai lasciato solo. Mi ha sempre detto che ce l'avrei fatta e se devo ringraziare una persona in particolare lo devo a lei perché veramente mi ha sempre tenuto su, non mi ha mai mollato e per questo lo dedico soprattutto a lei, poi di conseguenza alla famiglia, allo staff, i compagni, però in particolar modo alla mia futura moglie. Tu sei sempre concentrato e difficilmente soffri la pressione, ecco però, che effetto ti ha fatto? La fascia naturalità è un aumento sul braccio, la maia numero 24 e il debutto è in serie B. Forse in campo non si è visto, però ho sofferto tanto anche perché avevo tanta tensione, di solito a me porta bene e per fortuna è andata bene anche quest'oggi. Però ritornare dopo un lungo stop, soprattutto era da più di un anno che non facevo una partita, quindi ho fatto 90 minuti, ho fatto bene, quindi non potevo chiedere di più. Forse, come ho anche detto prima, una vittoria ci sarebbe stata, sarebbe stata ancora più bello, però l'importante è essere tornato, aver fatto bene e aver dato una mano da capitano, ma soprattutto da giocatore alla squadra. È arrivato il punto con Dentella, ecco si muove la classifica, si ritorna subito in campo, non è lì, non c'è tempo neanche per recuperare, si va in trasmetta, si va a Frosinone. Esatto, dobbiamo essere bravi e ripartire da qui. Abbiamo fatto una bella partita, ne dobbiamo essere consapevoli, però ormai è passata, quindi da domani subito si pensa a Frosinone. È una trasferta dura, ma sono consapevole, come lo siamo tutti, che giocando così, aiutandoci a vicenda, riusciremo a fare una grande partita anche là. Grazie ad una solita esperienza, la Edillima SRL Costruzioni si è sempre distinta nella costruzione di fabbricati civili e commerciali di pregio. Col tempo ha ampliato la propria attività, trasformandosi in una ditta di costruzioni immobiliari, specializzandosi nella realizzazione di edifici residenziali e fabbricati industriali. La Edillima SRL Costruzioni, acquisendo sempre maggiori competenze, ha conquistato il suo punto di forza diventando leader nel settore, con risultati eccezionali per estetica e qualità, lavori accurati e soprattutto rispetto dei tempi di consegna. Edillima SRL Costruzioni di Nicola Imperiale, da oltre 40 anni, al servizio della gente. A Gragnano, in via Castellammare 149, telefono 081 871 5584 oppure 334 26 49 108. Ogni festa ha il suo sorprendente finale, Pirotecnica Nazionale, l'unica, Pirotecnica Nazionale. Colora il cielo con fontane, candele romane, spara coriandoli, fuochi d'artificio da giardino, Pirotecnica Nazionale. Cura i migliori spettacoli pirotecnici per eventi e feste di piazza, Pirotecnica Nazionale. Cellulare 330 33 89 24. Cura i migliori spettacoli per eventi e feste di piazza, Pirotecnica Nazionale. Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità. Gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stato.